Lo chiameremo il club del più 30, larghe e convincenti vittorie in trasferta di Arcantell e Mura che passano con disinvoltura sui campi del Mirandola e del San Martino di Lupari. La squadra di Meccacci entra anche nel club dei 100 punti, disintegrando il dinamica Mirandola, avversario storico delle ultime stagioni. Il solito tiro di assi, parente dell'Oach Conjur, arricchito però da uno stravipante Rudy Valenti. Una bella Arcantè, un notevole impatto del giovane coach Matteo Meccacci che del resto già conosceva a menadito l'ambiente, con tre vittorie di una sconfitta che poteva essere anche bottino pieno. Bene, bravi trissi in attesa della gara interna di domenica prossima, ore 19, contro Casal Pusterlengo. E non è da meno il Gesam Gas di coach Diamanti che spugna il parquet del San Martino di Lupari, cancellando così subito la sconfitta con Schio, peraltro caduto in modo clamoroso alla Spezia. Ottima prova delle biancorosse, seppur prive di Gillian Robbins, la sfortunata americana sarà operata nei prossimi giorni. Eccellente Mahoney, ma molto buono l'impatto di tutta la squadra, che rimane in attesa di un eventuale rinforzo dal mercato. Budget permettendo, il nome di Courtney Willis rimane caldo, anche se al momento è solo un'ipotesi. Pala tagliate anche per Beba Bagnare e compagni domenica prossima nel Basket Day, in questo caso alle ore 16 contro il Cus Cagliari.